Ciao, sono Floriana e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è arrivato il pacco Faberlic, devo ancora aprirlo, ho aperto solamente il scatolo, diciamo la parte superiore, ma non ho visto nulla, lo vedremo adesso insieme. E ho ordinato i prodotti di questa campagna, la campagna numero 12, che se vi fa piacere iscrivervi, iscrivetevi in questi giorni, avete tempo entro il giorno 5 settembre, per approfittare di queste promozioni. Ci sono tantissimi sconti, tantissime offerte, guardate qua, tante, 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 tante. E quindi se vi iscrivete in questa campagna e farete un ordine minimo di 29,99 euro, prezzo da scontare del 20%, perché appena iscrivete avrete subito il 20% di sconto, riceverete, se poi vi fa piacere, nella campagna successiva con un ordine minimo di 18 euro, questo set della linea bio, di delersivi per il bucato, comprendono il delersivo per il bucato in polvere, lo smacchiatore e l'ammorbidente, tutti della stessa linea, si chiamano, quindi questa linea, è una linea completamente bio, è antiallergica, è una delle linee, diciamo, più costose, tra le altre cose, di fabbriche, queste riceverete completamente in regalo. Se vi fa piacere iscrivervi con il mio team, quindi far parte del mio team, io lascerò in infobox il mio link e potete iscrivervi tranquillamente, tanto non servono i documenti, è semplicissimo. Se invece volete informazioni, potete iscrivervi sia nei commenti, che sia tramite Facebook, su Messenger, su Instagram, mandatemi un'email, dove preferite, io lascerò tutto scritto in infobox, così potete contattarmi. Adesso passiamo subito a mostrarvi tutto ciò che è arrivato, vediamo un po', come vi dicevo ho aperto solo la parte superiore, non ho visto nulla, vediamo, vediamo, c'è infatti, c'è proprio ancora tutto il cartone, il cello fa un po', tutto quello che comporta per evitare di arrivare danneggiato. Allora, ho ordinato un po' di bustine, guardate quanto sono carine, sono troppo carine, queste bustine sono questa misura, queste vengono chiamate S, quindi sono quelle più piccoline, quindi per magari mettere delle piccole cose, tipo mascara, rossettini, matite, un po' il cosiddetto ci entra, perché è piccola però, diversi prodottini ci entrano. Ho ordinato, se non sbaglio, 11 di queste bustine, sono proprio carine, carine, che di solito Faberlic manda delle buste insieme ai prodotti, sono quelle classiche bianche, che adesso vedrete, però io ho voluto prendere queste colorate, perché le trovo molto, molto carine, anche per fare dei piccoli pensierini, si mettono lì dentro, siamo a posto. Allora, poi vediamo cosa ho ordinato, perché in questo tempo mi sono dimenticata che cosa ho ordinato, e l'ho ordinato, questo è il rasoio, ecco, ecco, della linea, dei LIM, questo il codice è 910060, se vi interessa. Poi, nella linea storie d'amore, questi assorbenti, perché Faberlic ha veramente lì in tutto, ci sono 8000 prodotti, quindi veramente, cioè, l'imbarazzo della scelta. Questo è lo scontrino, con tutti i codici dei prodotti, questo è un misurino, perché è ordinato un delersivo, e quindi ci sarà qui, in mezzo a questi prodotti. Ok, ecco qua, vediamo. Allora, è arrivata questa maschera, per viso effetto antigravità, con pepettiti, questa qui è a foglio, ed è fantastica, ottima bevuta di prodotto, e vedete i risultati subito. Dopo l'applicazione, dopo 15-20 minuti di posa di questo prodotto, vedete proprio un miglioramento sulla vostra pelle. Queste le utilizzo spesso. Poi ho preso dei piccoli campioncini, della linea Iseul, è una linea coreana, questi sono a base di lumaca, di bava di lumaca, e quindi li ho voluti prendere per provarli, perché ancora non ho provato proprio il prodotto di questa linea, quindi ho voluto intanto cominciare a prendere i campioncini. Poi, questi piccoli pennelli, pennelli da mettere nelle vostre palette di trucchi, vi dico il codice, se riesco a vederlo, 92-44, ce ne sono all'interno 5. Poi, vediamo un po', poi delle matite nere, perché c'è stato un periodo che è stato difficile trovare le matite occhi nere, allora ne ho ordinate un paio per fare appunto scorta, vi faccio vedere all'interno come sono fatte, vedete come sono bene, in massimo uno o due prodotti sono confezionati separatamente, proprio per evitare di rovinarsi, poi arrivano le confezioni in questo modo, ma non è perché sono rotte, rovinate, sono fatte apposta proprio per evitare di romperle, poi voi le unite, basta chiuderle, e potete, ecco, lo spiego perché alcune consulenti purtroppo non lo sanno, ecco, si chiudono e rimettete la matita all'interno, sono fatte proprio apposta per evitare di danneggiarle, e ritorna proprio alla perfezione, in questo caso a me non serve perché le matite le ho prese per me, quindi non mi serve la confezione esterna, però se voi dovete confezionarli, ricordatevi, se vi arrivano in questo modo, non sono fatti proprio apposta, non è danneggiato il prodotto, ma è fatto apposta per poterlo ricomporre, e non arrivare schiacciato, quindi le matite sono queste, sono nere, e il codice è 5650, della linea Clean Team, questa è una linea italiana, poi vediamo un po' cosa è arrivato, ecco, questo è il dedattivo per il bucato, che infatti, prima vi ho fatto vedere il misurino, questo, eccolo, il dedattivo per il bucato, questi sono made in Germania, i certificati sono concentrati, e quindi ne basta solo un piccolo misurino di questo, per lavare i vostri panni, il codice di questo è 320, ed è magnifico, stava alla perfezione, veramente, poi vediamo un po', quest'altra busta, vedete le buste classiche sono bianche, però se volete delle buste colorate, come quelle che vi ho fatto vedere prima, ci sono diverse misure, ci sono anche in cartone, e insomma, nel sito ci sono tutte queste cosine, allora, vediamo un po', cosa c'è qui, sembra una sorpresa, veramente, io gli ho ordinati io i prodotti, però riceverli con le sue confezioni, con il suo pacco, sembra quasi un regalo, è piacevole aprire pacche, a me piace tantissimo, questa è la confezione esterna, ecco, guardate qual bellina la confezione, questo è un profumo, con la confezione, con la chiusura a forma di caramella, è troppo carino, allora, si chiama Troy Story, il codice è 3308, vi faccio vedere l'interno del profumino, ho preso della stessa linea, due profumi, mi mancava questo, questo con la confezione viola, ed è bellissimo, bello, 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 anche per me, lo sono semplicemente esposto, sentiamo la profumazione, perché non la conosco, vediamo un po' com'è, bella, molto buono, a me mi piace, lo spruzzo dappertutto, guardate che lo sto spruzzando, dappertutto, veramente, poi si abbina anche la mia maglietta, senza farla apposta, buonissimo, bello, mi piace, bellissimo, vi fare anche due piccoli pensierini, guardate quanto è carino, anche per delle ragazzine, delle bambine, insomma, è carino, oppure delle persone adulti come me, poi ho ordinato, questo profumo, da uomo, si chiama Urban Legend, era in offerta, 75 ml di prodotto, e quindi, vedremo, come sarà anche questo profumo, quest'altra busta, vediamo cosa c'è, vediamo, ora c'è, so spresa, so spresa, so spresa, perché non mi ricordo cosa, ho ordinato, eccoli qua, fantastici, questi due prodotti, già uno l'ho quasi terminato, sono dei detergenti universali, antibatterico, per pulire tutte le superfici della vostra casa, compreso i pavimenti, potete pulire mobili, appunto i pavimenti, tutte le superfici lavabili, e quindi sono antibatteri, sono disinfettanti, e hanno la profumazione di menta e limone, mi sono trovata bene, e allora ne ho ordinato i due, perché in questa campagna sono in offerta, se ne prendete due, li pagate meno, e quindi li ho voluti prendere, vi dico i codici, se vi interessano, è 3021,9, 3021,9, vi dico il codice del profumo, che ho dimenticato di dirvi, è 3308, in questa campagna, costa 4,99 euro, e questo pure è in offerta, in questa campagna, il codice è 32,33, costa sui 10,11 euro, 10,90 euro, una cosa del genere, ok, ho preso un po' tutte le cose che ci sono in offerta, ordinato, vediamo come accende questa bustona grande, grande, mamma mia, questa bella pesante, vediamo, mamma mia quante cose, c'è un sacco di cose, allora, due lacche, lacche per i capelli, questo effetto volume stile, questa dovrebbe essere tenuta forte, extra forte, se non sbaglio, vediamo, c'è scritto, sì, tenuta extra forte, il codice è 2707, poi, vediamo un po' cosa c'è, questo quattro staglia, perché, visto, vedendo già tutto il tavolo, ho ordinato questi due bagnoschiumi, della linea botanica, questi hanno il 94% di ingredienti naturali, questi li ho ordinati, perché, una, eh, mia collega, me ne ha parlato benissimo, mi ha detto che ha una profumazione strepitosa, e allora le ho voluto prendere due, per poterli provare, quindi sono gel doccia, la profumazione, mela, mela verde, il codice è 2578, 2578 è giusto, e quindi li ho presi, come ho preso questi due odoranti, erano anche questi in offerta, Uomo Felice, e Incognito, e se ho il codice, allora, Uomo Felice è 3602, e Incognito è 30, aspettate che lo vedo meglio, 3608, poi vediamo sempre l'offerta, ho preso dei gel doccia, mi ho presi due, della linea Monroy, e sono abbinati, hanno della stessa linea, hanno il profumo, e quindi ho voluto prendere intanto il gel doccia, per poterli provare, uno lo regalo a mio marito, o uno lo regalo a mio padre, quindi sono due regali, che devo fare, la stessa cosa per questi due, sono due regali, poi ho preso questo gel doccia, dalla profumazione del profumo desiderabile, ho conosciato questa linea, e il profumo desiderabile, ho preso il gel doccia, che anche questo è un profumo, deve essere strepitoso, visto che il profumo è fantastico, poi ho ordinato della linea Dr. Corr, ho voluto prendere questa crema idratante, per pelle secca, questa è una linea molto, molto bella, particolare, ecco, adesso sto sentendo che c'è addirittura rilievo, si sente proprio al tatto rilievo, di questo, ecco, disegno che c'è qui davanti, il codice è 0582, non so se vi ho detto i codici di questi, ve li ho detti, no, ve li ripeto, non lo so, sì, sì, ve li ho detti, mamma mia, qualche codice mi è sfuggito, e vi interessa saperlo, scrivetemi, che vi li, ve li faccio sapere, vi dirò tutti i codici che vi interessano, allora, poi ho ordinato, nella linea Expert Pharma, quindi la farmaceutica, questa crema per i piedi, tonificante, Venus, questa qua in particolare per i piedi stanchi, per le vene, insomma, è una crema fantastica, il codice, prima che me lo dimentico, è 1733, ed anche questa è un'offerta, poi ho preso, non ne ho preso due, non me ne ricordavo, ho preso due di quelle gel doccia, della linea desiderabile, ne ho presi due, perché devo fare anche con quello dei regalini, e poi ho preso questa matita, per le sopracciglia, il codice 5718, il colore è quello, è il marrone chiaro, adesso non mi ricordo se qua c'è scritto, non c'è scritto, comunque era un marrone chiaro chiaro, sul biondo, ok, anche questa è un'offerta, poi vediamo in fu, quest'altro c'è, questa crema, balsamo per i piedi, per i talloni, questo fa l'effetto più lisciante, proprio levico in maniera perfetta, i talloni, il codice è 1661, sempre della linea Expert Pharmac, quindi farà farmaceutica, allora, altri due prodotti in questa busta, questo spray della linea Oxolam, G, questo è proprio uno spray fantastico, che contiene proprio ossigeno, da spruzzare sopra il trucco, come base per il trucco, e dà ossigeno, e rinfresca la pelle, ed è perfetto, ed è ottimo, costa pochissimo, è proprio un super offerta, in questa campagna, il codice è 020256, poi vediamo cosa c'è, in frattempo io non mi ricordo, cosa ho ordinato, non so, c'è questa scatoletta, non ho preso le cose, vediamo che riesco, ad aprire lo stesso, così, strappo tutta, confezione, esterna, ecco qua, wow, adesso mi sono ricordata, cos'è, mamma mia che bello, non vedevo l'ora, e la linea Green Therapy, è uscita in questa campagna, la candela, questa è una linea, particolarissima, perché contiene, melatonina, mamma mia che bella, è stupenda, la confezione blu, bellissima, mi piace molto il blu, è uno dei miei colori preferiti, se non è proprio il mio colore preferito, forse è proprio il mio colore preferito il blu, perché mi piacciono diversi colori, il blu mi piace particolarmente, non vedevo l'ora, io sono amante di candele, non potevo farmi sfuggire, questa meraviglia, è fatta così, una candela fantastica, perché poi, essendo che ha questa candela, contiene all'interno la melatonina, questa è l'ideale per la sera, quindi per dormire in maniera serena, fantastica e stupenda, bella, bella profumazione deliziosa, questa in questa campagna, figuriamoci, io se trovo candele, io non capisco più niente, se vedo le candele, le devo ordinare per forza, fatti l'ordinata, allora vediamo cosa c'è in questa, mamma mia, cosa c'è sarà mai, non lo so, ecco è uscito fuori, il ketchup, perché infatti c'è anche il ketchup, e le mie colleghe, l'hanno già preso, quindi una volta, e me l'hanno parlato stra bellissimo, perché la particolarità di questo ketchup, per parte della chiusura, è fatta in maniera molto pratica, e comodo, che non contiene zucchero, e quindi è perfetto, visto che non contiene zucchero, ottimo, il ketchup è classico, come viene definito, però non ha zucchero, 16, 0, 50, ordinatelo, perché me ne hanno parlato, veramente molto bene, non vedo l'ora di utilizzarlo, se non lo utilizzerò, magari stasera stesso, può essere, può essere che lo utilizzerò, proprio stasera, allora, vediamo in quest'altra busta, cosa c'è, vediamo cosa, a me sembra festa ogni volta, di coprire questo pacco, mi sembra veramente una festa, ci sono tantissimi prodotti qui, ok, vediamo un po', iniziamo una alla volta, allora, della linea Barbelab, ho preso questo, elisire emolliente, per la barba, era in super super offerta, tipo 70 centesimi, proprio, non potevo, non prenderlo, io non ho la barba, ma faccio un regalo, naturalmente, 2641, questa è appunto la linea da uomo, eccolo qui, se mi capita anche questo, prendetelo, perché costa veramente pochissimo, poi, mi è stato ordinato, questo mascara, della linea Oscar, quella, la linea più lussuosa, vi dico anche il codice, se lo riesco a vedere, basta, quando riesco a vederlo, il codice, ecco, 5598, l'ho trovato, vi faccio vedere, senza tagliare la confezione, perché questo non è il mio, ecco questo, è stupendo, questo è proprio bellissimo, con questo, se farete un fatto, un regalino, farete un bella, veramente una bella figura, perché è elegantissimo, fra l'altro, questo proprio, in particolare, effetto volume, sulle ciglia, è un ottimo mascara, l'ho utilizzato, molto buono, poi ci sono altri prodotti, mi ricordate ancora quanti, i prodotti, che ci sono in questa, in questa busta, quindi ora, vediamo, una volta, ve li mostro, qua che cosa c'è, un rossetto, in polvere, effetto soft, lilla scuro, vediamo, adesso io questo, non vi ricordo se è il mio, perché, volevo farveli, vedere sulla mano, però non so se è il mio, vediamo, è qualcosa il mio, però non so quale, e quindi, vediamo, se riesco a ricordarmi, quale è il mio, e quale non lo è, vediamo, vediamo un po', se lo ricordo, lo faccio vedere, altrimenti no, sono in dubbio, non lo faccio vedere, quest'altro di chi è, vediamo che cosa c'è, sì, anche questo, è un altro rossetto, è, il problema che non vi ricordo, se sono i miei, perché non mi è stato ordinato, ma non mi ricordo quale dei due, ce l'ho scritto, stoppo un attimo il video, vedo di, vedo di chi è questo rossetto, così eventualmente, ve lo faccio, ve lo mostro, eh, sulla mia mano, allora, il rossetto, col codice, 4584, viene stato ordinato, e quindi ve lo faccio vedere, dal catalogo, sì, eccolo qua, 4584, si chiama prugna scura, ecco, ed è questo, prugna scura, questo, ed è, il rossetto, è matte, questo è matte, ed è lunga tenuta, quindi questo non ve lo posso far vedere, perché, mi è stato ordinato, e quindi vi faccio vedere solamente, vi faccio vedere, il pack, guardate che bello, è molto bello, sono calamitati, non lo apro appunto, perché non è il mio, poi, c'è questo qui, invece l'ho ordinato per me, ho controllato, è il mio, il codice, 40996, questo è un nuovo, una nuova linea, di rossetti, che sono usciti in questa campagna, guardate quanto è bello, poi ecco, anche questo è calamitato, vedete, e questo è il colore, eccolo qui, adesso ve lo sguaccio, e vi dico, mamma mia che profumo, profumo di fragola, allora, dove lo metto qua, eccolo qui, questo, è il, bellissimo, secondo me, bellissimo colore, molto, molto bello, vi dico anche come si chiama il colore, come lo chiamano, qui, ecco, questo qua, praticamente questa linea, la linea nude, è il colore che ho preso io, il codice, abbiamo detto, 40996, vi faccio vedere, anche da poco qual è, 40996 questo, è questo qui, eccolo qua, bellissimo, bello veramente, e quindi questo è il mio, lo lascio aperto, questo non lo compongo con l'altro, che non è il mio, poi, allora, ho ordinato, della linea acqua di Portofino, questo lucida labbra, per me è stupendo, mamma che bella la confezione, questa linea Portofino, mi sta piacendo tantissimo, ho comprato gli illuminanti, e diversi prodotti, di questa linea, fantastica, mi mostro, come, ecco, anche questo all'interno, guardate, vediamo un po', questa è il lucida labbra, quindi, molto più leggero, anche questo, ha un profumo fantastico, e l'ho visto, utilizzato da altre colleghe, ed è bellissimo, veramente, da qui purtroppo, non si vede bene, è lucido, delicato, come colorazione, bellissimo, poi, in base alle vostre labbra, il colore cambia, bello, quindi, veramente, allora, vediamo il codice, come se già ve l'ho detto, comunque, ve lo ripeto, eventualmente, 40, 34, 3, quindi, della linea acqua di Portofino, poi, passiamo avanti, questi altri tre prodotti, vediamo cosa sono, allora, della linea, Clem Team, allora, vediamo un po' cos'è, lo apro, perché non si capisce, da qua, il codice, 52, 38, e vediamo un po' cos'è, ok, ho visto, è il mascara, questo è un mascara, è super un'offerta, e, questo mascara, anche questo, allunga bene le cilie, le separa, eccolo, anche questo è un'offerta, nelle prime pagine, forse, non c'è, se lo faccio vedere, eccolo qua, proprio lo presenta, questa modella cantante, eccolo, questo è il mascara, guardate che effetto, che fa sulle ciglia, dice qui, mascara volumizzante, e c'è, in quattro colorazioni, si può avere, in quattro colorazioni, prendendolo con lo sconto, lo potete acquistare, con 3,59 euro, e quindi, io l'ho preso, poi, vediamo cos'altro c'è, qui, apriamo quest'altra confezione, sembra della linea, l'entim, ecco, eccolo qua, ah, ok, ho preso questo fantastico, lucida labbra, che non avevo, anche questo è in offerta, non avevo lucida labbra, perché di solito, non uso lucida labbra, preferisco i rossetti, però, mi andava di provare, questi lucida labbra, specialmente, dato che sono in offerta, e tu li provo, questo, anche questo, questo è il profumo, ce l'avete presente, mamma mia, è uguale, ce l'avete presente, lo zucchero filato, quello che vendono, nelle varie piazze, nelle feste, uguale, stesso, profumo dello zucchero filato, mamma mia, che bello, e vi dico anche il codice, 4832, ed è in offerta, in questo momento, bellissimo, è lucido, giustamente lucida labbra, col suo pennello, vediamo cosa altro c'è, qui, questo è il mascara, che già vi ho fatto vedere, ecco, quest'altra confezione, vediamo un po', cosa c'è, ah, un altro, due lucida labbra, questo forse mi è stato ordinato, guarda, sì, questo mi è stato ordinato, uno è mio, e uno è stato ordinato, lo separo, così non lo confondo con l'altro, perché lo metto da questa parte, bellissimo, andiamo avanti, mostriamo, un altro prodottino, che ho ordinato, allora, perché c'è di tutto, come vi dicevo, mi fa bene, ci sono anche i pasti, questa è una zuppa, che è sorpresa per me, posso vedere, se, lasciate aprire bene, la mia confezione, posso vedere, questa zuppa, che cos'è, vediamo, non me la ricordo nemmeno io, pasta con pomodoro, e verdure, eccola qua, è il codice, 16, 0, 17, questo, con questa confezione, potete fare, cinque pasti, questi, sono stati proprio, creati da, nutrizionisti, proprio per, faberli, che collaborano, e lavorano con faberli, che hanno preparato, questi, questi pasti, sani, per fare, un'alimentazione sana, allora, vediamo un po', mamma mia, me l'avevo dimenticato, guardate, cosa c'è qua, in questo superfaccio, ci sono, sei confezioni di tè, che ho vinto, e ho vinto, in omaggio, sei confezioni di tè, faberli, che fa anche, dei regali, per, per, per chi, si impegna, e fa, dei punti, perché, praticamente, con faberli, che bisogna fare, in base al proprio ordine, che si fa, ci sono, dei, dei punti, da raggiungere, io raggiungo, quei punti, che ne sono stati richiesti, e ho vinto, in omaggio, sei confezioni di tè, con, ognuno, giustamente, una, profumazione diversa, una fragranza diversa, insomma, un po' di, questa qua, per esempio, ha la cannella, e arancia, ed è buonissimo, perché questo, ho già utilizzato, poi, questo, invece, cosa è, vediamo se c'è scritto, qui, nocciola, questo non l'ho mai provato, questo, la nocciola, il tè, alla nocciola, mai sentito, neanche, nominare, che si stava, non lo sapevo, l'esistenza del tè, alla nocciola, poi, vediamo quest'altro, vediamo, questo è, ai tropici, questo, all'arancia, eccolo, fa voglia di tè, tutto l'inverno, sono a posto con i tè, questa, invece, c'è la camomilla, la li prego, risumo, perché c'è, camomilla e pistacchio, anche questo l'ho utilizzato, pistacchio, buonissimo, mamma mia, anche questo, mai l'avevo sentito dire, un tè al pistacchio, mai, ed è fantastico, l'ho utilizzato, quello l'ho, già preso, poi, questa è mela e vaniglia, mela e vaniglia, e quest'altro è, rubois e alla vaniglia, grazie, Fabio e Bucchio, per questi fantastici regali, grazie, sei, confezioni, graditissimo, regalo, graditissimo, veramente, vediamo, cosa altro è rimasta, in questa scatola, la, ok, abbiamo finito, sono rimasti solo, sono rimasti solo, i cataloghi, da mostrare, i cataloghi, della campagna successiva, eccoli qua, vi mostro solamente, la copertina, queste sono della campagna, numero 13, eccola qua, bellissima, anche la copertina, di questa campagna, e ho finito, sì, ho mostrato tutto, grazie per aver visto, questo video, che è stato un po' lungo, perché avevo tanti prodotti, da mostrarvi, se vi fa piacere, e iscrivervi al vostro, al mio canale, così da non perdere, i prossimi video, che farò, attivate la campanella, così ricevete, le notifiche, quando farò, un nuovo video, ciao, alla prossima,